Allora siamo arrivati al 12 di settembre, Benito Mussolini che in quel momento era era catturato a campo imperatore del Grazassio Italia in un albergo guardato a vista da 100 carabinieri, fu liberato, 12 settembre, fu liberato dai paragonisti tedeschi e portato all'aeroporto di pratica di mare. Con una rocambolesca operazione riuscirono senza incontrare nessuna resistenza, nessuno sparò un colpo di mitraglia e quindi Mussolini fu portato. Arrivato a pratica di mare, la sera stessa fu portato a Monaco di Baviera dove c'era la famiglia da attenderlo. Adesso arriviamo subito alle prime decisioni. In quelle ore è chiaro che prese contatto anche con i comandi tedeschi, anche con Hitler e con i suoi che venivano da Roma e alcuni responsabili del fascismo di prima del 25 giro, tra cui Paolini, eccetera, si accordarono con Hitler di riprendere l'alleanza in modo che l'Italia potesse avere un suo governo. 15 settembre 1943, alle ore 14.35 attraverso l'agenzia Stefani, Benito Mussolini emana otto ordini del giorno con il quale dà ordini, dicendo che lui era il nuovo capo del fascismo, il nuovo capo del governo fascista e ce li ho scritti, c'è anche un bel documento, con otto ordini del giorno, dava ordini che tutto quello che era l'organizzazione rimasta in piedi dei servizi dello Stato riprendessero a funzionare. Quindi questo alle prefetture, a tutto quello che erano i vertici dei vari servizi pubblici, tant'è vero che siccome in quella confusione, io parlo sempre di Roma, non è che fu smontata tutto quello che era l'impaccatura dello Stato amministrativo, certi servizi automaticamente continuavano, gli ospedali, le ferrovie, eccetera, ma con questo ordine del giorno quelli che erano rimasti in loro posto, furono autorizzati a riprendere immediatamente il servizio e questo accadde. Ecco che cosa accadde prima di arrivare a una dichiarazione che sarebbe avvenuta molto più tardi che della Repubblica Sociale Italiana.